Ma io dico Come si fa a perdere una partita del genere? Iachini, ti devi svegliare Non puoi, non puoi fare tutto ciò Come fai? Hai levato il minore centrocampo di stasera Perché Bonaventura ha fatto una grande partita secondo me Poi hai levato Ribery senza motivo Hai levato Chiesa Poi sbagli, De Gaulle a porta vuota Che poi appunto ti fanno perdere le partite Perché stasera l'Inter non ha fatto una grande partita Perché ha giocato discretamente Stasera la Fiorentina meritava almeno il pareggio Ma io dico Come fai a levare Chiesa al 68esimo E mettere quello scarso di Lirola? Non lo puoi mettere Ma poi io dico Blaubic Per favore Vattene via Vai via in prestito perché fai cacare Fai schifo, veramente Non puoi giocare nella CF Fiorentina Ti devi giocare in Serie D Che ne so O in eccellenza Perché fai schifo Perché una palla del genere Che ti dà Ribery Il migliore in campo di stasera Che è stato levato senza motivo Da quel cretino Di Iachini Che stasera ha fatto dei cambi alluscinanti Ha messo Borca Valero Borca Valero Ha messo Borca Valero Cosa ha fatto Borca Valero? Nulla Cosa ha fatto Blaubic? Nulla Cioè io dico Non si può perdere una partita del genere Primo perché L'Inter ha avuto Una palla goal nitida Sulla grande parata di Trongoski Il grandissimo goal di Lautaro Martinez Ma poi Amrabat Ma che giocatore è? Io gli voglio da fiducia Ma stasera ha fatto schifo Il peggiore in campo forse Il peggiore in campo Partita da quattro Io un tanto vi dico le mie pagelle Secondo me Anche Milenkovic ha sbagliato sul secondo gol Perché E' andato insieme ad Amrabat Dai Comunque Trongoski Sei e mezzo Per la grande parata Poi aveva toccato anche Quella di Lukaku Ma non ce l'ha potuto fare nulla Purtroppo Poi c'è che c'è da dire Ceccherini Da dire Da Non c'è Incommentabile forse Poi Che c'è da dire Castrovilli Grande partita Anche stasera Sette e mezzo Riberi Io gli do Otto e mezzo Perché Due assist Micidiali E poi il cretino di Vlaovic Li do due Cretino Vai via Vai via Devi andartene via Cutrone A cosa serve metterlo Alla fine Non serve a nulla Cosa serve mettere Lirola Quando Chiesa ha fatto una partita Sette e mezzo Barra otto Sono incazzato nero Cogliacchini Vergognati Ti devi dimettere Perché non è possibile Perdere una partita del genere In questo modo Comunque L'Inter non ha giocato per niente bene Secondo me stasera La Fiorentina meritava almeno Il 4 pari O Anche la vittoria forse Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti